Le tradizioni non bisogna mai scordare, sono patrimonio della nostra società. Passano gli anni, si rinnovano i ricordi, quando è la festa di paesi di città. Buongiorno carissimi amici di Musica e Tradizioni, prosegue il nostro viaggio nel bel Piemonte, rimaniamo ogni giorno sorpresi delle meraviglie che abbiamo a due passi da casa e questa settimana dove vi porteremo? Vi porteremo alla scoperta di Vicoforte. Siamo ancora nel Morre Galese, siamo nella provincia grande, provincia di Cuneo e ad aprire le porte non solo il maestoso santuario di Vicoforte, ma in particolar modo il primo cittadino di Vicoforte. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. È con piacere che in una giornata anche un po' fredda, purtroppo è così, che vi porto il saluto mio personale dell'amministrazione comunale di Vicoforte. È un piacere oggi avervi qui a Vicoforte proprio per questo evento, per questa vostra bella trasmissione che io vedo anche, quindi... Grazie. Direi che non potremmo pretendere di più. Siete qui a Vicoforte, ha già detto una signora davanti al maestoso nostra basilica, al nostro santuario di Vicoforte. Uno è un fiore all'occhiello, consentitemi, del nostro territorio morregalese, di cui ne andiamo orgogliosi. Direi di sì. Abbiamo qui a Vicoforte la cupola più elittica del mondo, la quinta a livello di ampiezza, contando anche quelle rotonde, quindi credo che sia un monumento al quale tutti noi ci teniamo, noi morgalesi, e penso che questo monumento sia e debba sempre di più essere conosciuto a livello mondiale. Esatto, esatto. Dice bene, ma non a caso molti turisti giungono in queste zone proprio per ammirare il santuario, che tra l'altro diventa protagonista anche in una fiera molto importante, che è quella della Madonna, appunto che si festeggia a settembre, se non sbaglio, e che ovviamente avvicina tantissime persone che con la scusa poi visitano anche questa zona. Ma Vicoforte non racchiude solo questo santuario importante, luogo di spiritualità, luogo di miracoli e misteri. Avremo modo di oggi sviscerare un pochettino tutta la storia, la leggenda, se vogliamo anche che circonda questo luogo sacro, ma Vicoforte è molto di più. E proprio per questo noi siamo qui per scoprirlo insieme a voi questa settimana. Grazie. Vicoforte, l'ha detto lei, è molto di più, è un paese, basti pensare che è un comune che è a mezz'ora dalle piste da sci e a mezz'ora dalle spiagge e al mare. Siamo comodissimi a tutto. Più di così si muoge. Posizione strategica e allora io invito la nostra regia a far ascoltare un brano musicale al nostro pubblico. Nel frattempo insieme alla nostra guida di oggi andremo a scoprire questa meravigliosa chiesa, questo patrimonio importante per la zona di Vicoforte. Cara Maria, eccoci qui, lei sarà la nostra guida oggi alla scoperta di questo luogo sacro, luogo importante che in realtà nasce secondo una storia molto speciale o una leggenda, non lo so, per i non credenti, questo lo lasciamo scegliere al pubblico che ci sta ascoltando. Qui nascevano delle distese di terra, un prato e la leggenda racconta che un pastore decise di creare un pilone votivo alla Madonna proprio per farsi aiutare come simbolo di aiuto che portasse bene per le annate di raccolto e quant'altro. Che cosa succese a seguito di questo fatto, questa creazione di questo pilone che fu poi distrutto? Come ha detto giustamente lei, in questo luogo non c'era nulla, anzi era praticamente un bosco e questo pilone era stato realizzato verso la fine del Quattrocento. Quando poi il realizzatore di questo pilone e tutti i suoi discendenti morirono, di fatto questo pilone venne coperto di sterpi, di rovi, quindi non visibile all'occhio, no? E si narra appunto che nel 1592 il cacciatore Giulio Sargiano, inavvertitamente cacciando la selvaggina, colpì l'immagine della Madonna col bambino che era stata affrescata da un pittore locale, proprio con la tecnica dell'affresco. E pare che iniziò a sanguinare questa immagine. Allora, questa in realtà in effetti è proprio una leggenda, nel senso che è una cosa che è venuta dopo. In realtà anche con le prove al carbonio non è risultato affatto questo, però di fatto l'evento era stato di un certo clamore, perché significava che in qualche modo colpire l'immagine della Madonna potesse portare male. Esatto, potesse portare male. Per cui grazie proprio allo straordinario impegno di quello che era il diacono di allora, un certo Cesare Trombetta, tutta la popolazione si organizzò, si mise intorno a questo pilone, lo ripulì, la pilone lo ripulì, eccetera, e piano piano, tra l'altro in quel periodo c'era una pestilenza, per cui il diacono Trombetta tutte le volte che visitava i malati li esortava a pregare proprio questa Madonna col bambino del pilone. Per cui piano piano la voce si espanse e nel frattempo si verificarono delle grazie, non dei miracoli veri e propri, però effettivamente conversioni, anche famiglie che bisticciavano tra di loro si riappacificarono. Esatto, quindi tutta una serie di eventi, se non proprio straordinari, molto fuori dell'ordinario. Quindi ad oggi possiamo dire che questo santuario nasce un po' sulla base di questo pilone votivo. Esatto, assolutamente, l'origine tutta di tutto, della chiesa, del bellissimo santuario, è proprio questo pilone votivo molto semplice, rupestre, no? Perché poi era stato realizzato in mattoni, quindi è una cosa molto modesta. Di umili origini. Di umili origini, esatto. E forse il bello è proprio questo, no? Che da un'origine così umile poi si sia sviluppato questo. Dalle cose semplici nascono sempre le cose meravigliose e grandi che ad oggi possiamo apprezzare. Possiamo apprezzare, come ha già detto prima il sindaco, grazie anche all'arrivo di tantissimi non solo fedeli che giungono in pellegrinaggio in queste zone per pregare la Madonna ma anche persone che non sono strettamente religiose ma che vengono colpite dalla bellezza di questo santuario che un po' da tutte le zone richiama perché lo si vede già in lontananza. Sì, questo sì, perché poi appunto dobbiamo seguire un certo passaggio nel senso che inizialmente abbiamo questo piccolo pilone votivo, poi viene costruita una piccola cappella intorno e dopodiché ancora una piccola chiesa. Ma poi essendo la devozione così forte e straordinaria e il contesto storico-politico anche un po' particolare perché noi appunto siamo verso la fine del Cinquecento quindi un momento storico, siamo vent'anni dopo la battaglia di Lepanto quindi la vittoria sui musulmani, trent'anni dopo il concilio di Trento e poi Mondovì era una città molto importante in quel periodo pensate che c'era addirittura un'università il bescovo Michele Ghilisieri lasciò la diocesi di Mondovì per diventare papa nel 1566 quindi Mondovì viveva uno straordinario momento il duca Carlo Emanuele I che era appunto allora reggente in qualche modo voleva confermare la sua potenza, il suo potere la sua presenza sul territorio e quindi insieme al bescovo Castrucci decide in realtà di costruire una chiesa più bella di quella che era stata realizzata sino ad ora per cui indice proprio una specie di concorso vi partecipano vari architetti di corte e Ascanio Vitozzi, il progetto di Ascanio Vitozzi verrà scelto però l'intento del duca di Carlo Emanuele I era quello di avere sì un tempo mariano quindi dedicato alla Madonna ma che in contemporanea fosse anche il mausoleo della famiglia Savoia ecco che però successivamente questa volontà non si poteva realizzare perché per una cosa e per l'altra e soprattutto per l'arrivo di questa pestilenza legata alla peste non si poterono proseguire i lavori e quindi ad oggi le spoglie dei reali di Casa Savoia come ben sappiamo sono a superga ma inizialmente erano destinati a questo luogo erano destinati a questo luogo e in realtà l'unico ad essere sepolto qui è stato proprio Carlo Emanuele I il quale ha riposato per 350 anni solo sino a che nel 2017 a dicembre sono arrivati poi Vittorio Emanuele III e la sua consorte la regina Elena di Montenegro per cui sono sepolti anche loro quindi per certi aspetti lo scopo principale del Duc Carlo Emanuele I si è avverato lui comunque qui è sepolto ecco è un'altra parte della sua famiglia invece si trova a superga detto questo noi proseguiamo il nostro viaggio all'interno del santuario per andare a scoprire la famosa cupola si può entrare mille volte in questo luogo ma si rimane sempre abbracciati da un'atmosfera particolare si respira un qualcosa quasi di magico ci sono tantissime cose da dire di questo santuario soprattutto per la parte interna ma sicuramente abbiamo voluto iniziare proprio qui ai piedi dell'altare ai piedi soprattutto del pilone il famoso pilone del quale parlavamo prima in esterna con ovviamente la raffigurazione della Madonna e del bambino e se notate bene il famoso buco legato al colpo di fucile del cacciatore dell'archibugio proprio del 1592 ora può trattarsi di una leggenda però in realtà noi possediamo l'archibugio sappiamo che molto probabilmente l'artefice era il Giulio Sargiano quindi insomma abbiamo già delle testimonianze in favore di questo e poi è anche proprio bello pensare che sia andata così ora quello è proprio l'affresco dal quale ha origine tutta questa straordinaria cupola ecco e la domanda sorge spontanea quanto tempo ci è voluto per creare questa struttura e l'intero santuario? ecco dall'esterno si vede benissimo in effetti ci sono voluti tre secoli perché la posa della prima pietra è avvenuta il 7 luglio 1596 e poi ovviamente il 600 è stato un secolo travagliato dobbiamo aspettare il 700 e l'opera del Francesco Gallo questo famoso architetto di Mondovì il quale andrà a completare l'opera che però sarà totalmente completata solo verso la fine dell'Ottocento con la realizzazione dei campanili e della copertura in rame copertura che tra l'altro esternamente in qualche modo mortifica la cupola ellittica che invece all'interno possiamo ammirare nella sua straordinaria bellezza pensate che l'asse maggiore è lungo circa 37 metri scusate ho invertito 37 metri mentre quello minore è di 24 oltre i 24 e abbiamo un'altezza dal cupolino al pavimento di ben 75 metri una metà della piramide di Cheope giusto per darvi un'idea mamma mia veramente e lei però ha colto proprio nel segno quando ha detto che ci si sente avvolti quando si entra qua dentro perché in effetti dal punto di vista artistico noi ci troviamo davanti a una straordinaria pagina di barocco maturo moderato che veramente con un equilibrio formale ci dà un senso di armonia e di gioia dell'insieme quindi questa è una cosa veramente straordinaria e vi porta anche in cima alle classifiche se proprio vogliamo vantarci anche di un qualcosa perché risultate proprio ai primi posti per quanto riguarda questo tipo di cupola quindi di forma ellittica esatto la prima al mondo in assoluto e poi detiene un altro primato questa chiesa e cioè quello di avere una superficie non affrescata perché qui non si tratta di affreschi come il pilone ma si tratta di pittura a secco comunque una superficie di 6032 metri quadri che ha un unico tema che è in pratica il mistero della salvezza contemplato in Maria perché vi ho detto prima che questo è un tempio mariano quindi dedicato alla Madonna non a caso insomma arrivano tutto l'anno pellegrini e pellegrinaggio appunto in devozione alla Vergine Maria la forma anche particolare legata ovviamente che segue sempre il disegno della cupola questo rotondo, questo cerchio anche nel quale è posizionato tutta la parte poi dedicata ai fedeli sì certo allora questo il perché di questa ellissima in realtà ci possono essere varie motivazioni intanto erano i dettami del concilio di Trento quando poi c'è stato il concilio di Trento appunto si danno proprio delle nuove regole sulla costruzione delle chiese e poi c'è anche un valore simbolico perché l'ellisse in qualche modo richiama il grembo materno per cui la Madonna, la Madre di Cristo quindi è tutto un po' collegato poi non dobbiamo dimenticare anche una cosa tecnica un punto di vista tecnico cioè il fatto che comunque ci fosse all'interno della chiesa di questo santuario questo già fatto alla Madonna che era la costruzione iniziale sa che l'ho detto che c'era appunto una cappella e poi una piccola chiesa ecco tutto questo era ancora permane fino al 1748 l'arrivo poi di Gallo nella sua opera importante, predominante un nome conosciuto nella nostra zona ha lasciato il segno anche in altre basiliche in altre chiese, in altri santuari di minore importanza rispetto a questo qui arrivando qui a Vicoforte quindi con la sua opera proprio all'interno del santuario il suo nome ha iniziato veramente a diventare importante, conosciutissimo famoso e poi ambito da tante case anche nobiliari certo, ma poi come lei giustamente ha detto veramente ha lasciato un'impronta in tutta la provincia del Cuneese non solo pensi che ha lasciato più di 80 opere alle sue spalle tra chiese, confraternite, ospedali abbiamo avuto modo di vederlo nei nostri viaggi con la nostra trasmissione anche in alcune chiese più piccole in altri paesi e città sicuramente proprio insomma una figura straordinaria è arrivato fino a qui con l'esplosione di questi colori è chiaro che qui ha raggiunto l'apice perché poi lui riusciva proprio nelle situazioni più difficili perché il Vitozzi si aveva progettato la cupola ellittica però poi in realtà lui tergiversava cioè non era non so se sarebbe stato in grado di portarla a termine mentre il Gallo ci riesce anzi lui arriva qui giovanissimo nel 1701 prende un po' visione dell'insieme dice ma sì io ce la posso fare e poi comincia gli studi realizza il tamburo che è tutta questa parte centrale sul quale poi appoggia appunto la cupola ellittica e c'è un aneddoto riguardo a questo per cui si dice che quando si è trattato di togliere comunque le impalcature ci fosse comunque del timore e allora pare che Francesco Gallo si sia messo appunto al centro con la sua famiglia e hanno aspettato che si disarmasse la cupola ci fu effettivamente un boato ma fu di assestamento per cui insomma l'opera era riuscita ad oggi ce l'abbiamo ancora sì ce l'abbiamo ancora nonostante le crepe che abbiamo avuto è segno tangibile del suo lavoro veramente maestoso imponente qui nella zona io ti ringrazio potremmo stare a parlare qui veramente per ore ma questo lavoro te lo lascerò fare quando arriveranno i turisti e i pellegrini che aspetto numerosi per scoprire quest'opera veramente unica in questa zona vi ringrazio cari telespettatori per averci seguito anche oggi l'appuntamento ovviamente su prima antenna canale 14 tutti i giorni alle 14.30